Bene, consideriamo questa formula, aperta quadra, aperta seconda, 2 meno un terzo, fratto 3 più 4, chiusa quadra, 3, 9 più 1, sì? Professoressa, io non posso usare le mani per scrivere, avrei bisogno di un software per scrivere le formule. Mi chiamo Jan e studio matematica. Nel 2019 ho avuto un incidente e da allora non posso più usare le mani, quindi mi servirebbe uno strumento tecnologico per poter scrivere le formule e svolgere esercizi in autonomia. Allora Jan, ti presento il team che sta realizzando proprio il prodotto che ti serve. Ah, oggi la risposta è abbastanza semplice. Possiamo usare il dispositivo elettronico tramite il comando locale. Possiamo dettare al computer qualsiasi testo. Sempre caro che fu questa erba un collo e... Già, ma ricorda la maniera? Ricordiamo. Aperta quadra, aperta tocca. Con la matematica le cose sono un po' più complesse. Per questo abbiamo realizzato la prima versione di SpeechMate, il nostro editor matematico. Ma non basta. Per poter studiare le discipline scientifiche a tutti i livelli dobbiamo estendere il nostro sistema, in modo che si possano manipolare efficacemente le formule con la voce e che si possano gestire espressioni e simboli più complessi. Al momento non esistono software così complessi con queste caratteristiche. Per migliorare e progettare i suoi cimenti in maniera efficace sono necessari tempo, energie, ricerche e finanziamenti. Solo così potremo garantire il diritto allo studio davvero a tutti. E se raggiungiamo l'obiettivo, unito raddoppierò il finanziamento. Aiutaci a realizzare il nostro prototipo di sistema di dettatura e manipolazione formule. Dona ora su ideaginger.it